In coincidenza dell'anniversario della scomparsa di Orazio Capurro, non potendo organizzare come ogni anno il premio alla solidarietà che è stato posticipato a data da destinarsi per il protrarsi della pandemia, l'associazione a lui dedicata l'amore per la vita Ollus, accogliendo con spirito di solidarietà una richiesta d'aiuto pervenuta dalla Caritas Parrocchiale della Parrocchia Beata Maria Vergine del Carmelo di Sciacca, ha effettuato la donazione di generi alimentari alla Caritas Parrocchiale guidata da Don Stefano Nastasi e il cui referente è Giovanni Misuraca, finalizzata a sostenere famiglie che avversano in condizione di disagio economico. La cerimonia di consegna ha avuto luogo ieri presso il Salone del Carmine di Via Incisa. Sono stati donati 600 kg di pasta, 840 litri di latte, 250 bottiglie di passata di pomodoro, 100 kg di riso, 100 di zucchero e 100 di biscotti, 200 confezioni di caffè, 40 confezioni di piselli ed altre 40 di fagioli, 150 lattine di tonno e 90 barattoli di omogeneizzati. Una donazione cospicua insomma quella dell'associazione guidata da Alessandro Capurro, l'ennesima opera di sostegno alla comunità.